Buongiorno, mi chiamo Roberta e sono qui in cura al centro medico Unisalus con il dottor Iorno. Sto facendo l'ozonoterapia perché soffro di fibromialgia da più o meno sei anni e finora nessuno è riuscito ad alleviare perlomeno i sintomi e non riesco a condurre uno stile di vita normale nonostante sia abbastanza giovane. Ho un mal di schiena molto forte, crampi, difficoltà di concentrazione e dolori diffusi ovunque. Diciamo che più o meno il dolore che sento è pari a quando si rompe un osso e quindi fare uno stile di vita normale è abbastanza difficile. Ho fatto più o meno una decina di ozonoterapie e mi si sono alleviati i crampi alle gambe e ho di nuovo la sensibilità agli alluci. Ho deciso di affidarmi al dottor Iorno perché questo mi ha dato una speranza in più per risolvere questo problema. Buonasera, sono il dottor Vittorio Iorno, anestesista terapeuta del dolore o zonoterapeuta. Stiamo trattando una paziente affetta da fibromialgia ovvero secondo la IASP, International Association Study of Pain, da dolore nociplastico, vuol dire un dolore che nasce all'interno dei tessuti, qualunque tipo di tessuto per cui questo dolore si manifesta essenzialmente come dolore cronico diffuso. La diagnosi è una diagnosi di presunzione in realtà perché non c'è un elemento sicuro diagnostico se non il reperimento di più di 12 punti trigger su 18 e di una congerie di sintomi che accompagnano il paziente fibromialgico, brain fog, fatigue, astenia, mancanza di perdita di concentrazione, insonnia, colon irritabile, facile stancabilità, che vanno a inficiare, rovinare la qualità della vita dei pazienti. La fibromialgia non è una patologia mortale, è una patologia che rovina la qualità della vita. La causa è perché lo zonoterapia. All'interno di uno stato infiammatorio costante e continuo si presuppone, e alcune ultime ricerche lo hanno anche dimostrato, la presenza o di un virus o di esosomi che portano frammenti di virus circolanti nel corpo che di fatto innescano la cascata citochinica infiammatoria, per cui questi pazienti vivono con una costante liberazione di interleuchina 6, fattore di necrosi tumorale alfa, chemochine, altre citochine che mantengono attiva la liberazione delle sostanze algesizzanti e il tutto nasce da uno squilibrio immunitario che si viene a creare all'interno del paziente. Ecco perché lo zonoterapia. Perché lo zonoterapia è contemporaneamente antibatterico, antivirale, micostatico, ma soprattutto un immunomodulatore, ma soprattutto un antinfiammatorio, un antiradicali liberi, migliora il meccanismo ossidoriduttivo, per cui permette una migliore ossigenazione generale di tutti i tessuti e in questo modo lentamente, senza dover far ricorso a farmaci che possono diventare invalidanti per le funzioni cognitive, si riesce a diminuire il dolore e a garantire una migliore qualità della vita.